so che queste ricette che mi piacciono a me e oggi la pasta e cavolfiore buona come la faceva la nonna cremosa muria fino a romun da noi a napoli si chiama pasta e cavrocioro voglio venite con me che vi faccio con solo a e torniamo indietro nel tempo ma prima di tutto facemla sta capata e allora voglio ingredienti cavolfiore pasta mista rigorosamente pasta mista pomodorini nu poco poche parmigiana aglio e peperoncino semplice semplice un filo d'olio e lo mettiamo in casseruola con aglio e peperoncino una volta che l'aglio si è bello imbiondito lo togliete e ci mettiamo stesso lì dentro pomodorini vedete io ho fatto anche bella brustolire peperoncino perché a me piace bello bello piccante allora voglio adesso io mi vado a me togliere a mettere insomma a separare tutte le cimette e tolgo tutti i gambi via me li metto dentro una volta che ho rosolato i pomodorini e facciamo rosolare anche il cavolfiore o cavrociora quando si è rosolato coprite di acqua possibilmente fredda perché così piano piano che si riscalda poi prende tutto il sapore sale coperchio e lasciate cuocere almeno 40 45 minuti fino a quando non vedete che il cavolfiore si spappola e piano piano vedete fuoriesce per tutta la casa un odore fantastico vaiù la pasta non si cuoce a parte tutto nella sola e unica in una sola e unica pentola quindi sporchiamo veramente pochissimo e adesso aspettiamo che l'amido della pasta che fuoriesce farà uscire una cremina guardate a ca sensazionale vaiù mi ricordo quando lo faceva la nonna sta pasta a ca veramente ci mangiavamo i cauraruna sana vaiù è a fine romun queste sono le ricette che mi piacciono a me le ricette che mi fanno ricordare la mia famiglia e sono convinto proprio che anche a voi suscitano questi bei ricordi guardate che cremosità guardate che odore mo lo tolgo dal fuoco ci mette una bella grattate parmigiana a sentimento universale ha mischiato tutte cose voglio mettete a tavola quanto è ancora bollente e voglio kiss è una piatta fin romun però voglio adesso lo dobbiamo andare a provare e mi raccomando voglio condividete la ricetta perché leone non si ferma mai cacioca sono poco pochi parmigiana ancora a coppa ed è finita voglio pasta e cavolfiore proprio come faceva la nonna sono queste le ricette che a me mi piacciono le ricette di una volta ma ormai che non parla non fa più voglio perché pure questa ricetta sicuramente ha fino a romun eppure questa ricetta è una grande capata fammela assaggiare un minuto mamma mi voglio che capata ciao vieni a casa grazie a tutti